Ops, per riparare la bussola serve un minerale speciale che troveremo alla raffineria Washburn. Beh, qui si prende la scorciatoia, cosa dite? Capisco, Salvador, ma Maya è una sirena e ha le ali! Ora basterà richiamare la piattaforma e avremo risparmiato un fracco di strada. Saremo già in pratica alla stazione di spostamento rapido. Dato un occhio alla strada che abbiamo risparmiato. Siamo partiti da lì, fin laggiù. Mica male, eh, come scorciatoia? Alla stazione di spostamento rapido, destinazione Warm Water. Al Vashail di Scarlet prenderemo subito un mezzo. E la minimampa ci porterà in pochi secondi all'ingresso. In pratica basterà andare sempre dritti. Quelle con Minion laggiù ci fa un po' da faro per la direzione. Eccoci qui. Dovremmo però guadagnarci l'ingresso facendo fuori un po' di rompiscatole. Magari ammorbidiamoli un po' rimanendo sul mezzo. E agli altri non si nega certamente un po' di blocco di fase. Ormai ci abbiamo fatto il tallo a leve e pedane elevatrici. Ecco che sta arrivando il nostro ascensore. Siamo ormai vicinissimi all'ingresso della raffineria. Lì, sulla destra. Ah sì, di solito c'è un cucciolo di guardia. Facciamolo un po' divertire con il Mixmoxy Bad Touch. Un bijou per la sua corazza. Ecco l'ho sistemato. Si entra. Location lunga, tortuosa, piena di pericoli. Però anche piena di nascondigli. I robot che qui troveremo, sono tutti e solo robot, sono spesso ossi davvero duri. Con questi primi tre un trucchetto che funziona è mandare in blocco di fase quello lì, centrale, poi passarci sotto e lasciare gli altri di stucco. Invece di farli fuori come sto facendo ora. Ne arrivano a frotte, quindi tenete sempre con voi anche un lanciarazzi. Perché ne avrete probabilmente bisogno. Ecco qui, colpito alle spalle. No, passiamo al mezzo pesante. Questo. Continuate a seguire la minimappa. In pratica dovrete proprio andare fin dall'altro capo del livello. Non è che la mia sirena sia ingrassata di 80 kg e vada così a saltelli. Perché ho su l'op light per difendere. Altra area fittamente difesa. Occhio a questi che quando girano le pale rispediscono indietro i proiettili. Ecco, viene a andare, esatto, o di barili o di granate. Ne avrete già visto percorrere questa strada decine di volte per andare a combattere Iperius, per cui, a brevio, andiamo all'ultimo pezzo di quel benedetto Poli Critene, per ottenere il quale dovremo combattere contro il bullo di questa arena, specializzato in lancio di barili esplosivi. Prima i pezzi piccoli, si fa per dire, questo caricatore è super duro. E poi, finalmente, lui, Mr. H3RLE. Occhio a scansare i suoi confetti. Eccone qui uno. È resistente al blocco di fase, ma non alle Herold. Guadagnata l'uscita, troveremo una di quelle casse mega dei pirati, che di solito, ecco qui, belle sorprese. E attenzione, perché procedendo troverete ancora un paio di robot. Vediamo un po' come si comportano contro la slagga. E il B, più che altro. Eccolo qui, il nostro ultimo pezzo di Poli Critene. Qui fate lo sforzo di fare un saltino dall'altra parte, invece di buttarvi subito giù, perché forse ne vale la pena. Cassettina. Eh. Non male. Peccato che ho lo zaino pieno. Si torna da Herbert. Qui abbiamo la possibilità di sfruttare, anche per l'andata, la pedana. Ed Herbert è lì, che ci sta aspettando, sognando ancora di Scarlett. Diamogli il Poli Critene. Lui ci riparerà il pezzo della bussola. E noi lo ricompenseremo con il pacchettino dono di Scarlett. Herbert ci chiede poi di ritorno da Scarlett, con i nastri e con tutto il suo amore. E forse l'avamo giudicata male, Scarlett, perché ci ha addirittura dato un regalino per il buon Herbert. Eh sì. Questi pregiudizi, sui pirati, sulle loro nefandezze, sul loro non quo. Ok. Come non detto. Si torna a Wombwater da Scarlett. Occhio. Tre volte occhio. Perché questo è il momento tipo quello della Fibber. Stiamo per ricevere un'arma fantastica, ma la vorremmo nella versione giusta. Stessa tecnica. Si salva, si esce. Poi si fa una copia della partita su 1, 2, 3 USB per sicurezza. Si rientra, si fa la consegna. Se l'arma piace, allora si chiama dentro un secondo personaggio in split screen o è un amico. Quello si becca l'arma, esce salvando e quindi tenendosi l'arma. E noi invece cosa faremo? Andremo alla dashboard, riprenderemo il salvataggio da una dell'USB fatto prima, lo rimetteremo sull'unità principale e via. Si ricomincia. Eccola quest'arma. È la Sand Walk. Il falco delle dune. Il cos'ha di particolare, specialmente col B e ancora più specialmente con Maya, che può potenziare di molto grazie alle sue skill il danno da SMG, ve lo spiego tra pochi secondi. Ora vorrei invece dirvi qual è la versione, le versioni a cui dovremmo puntare. Innanzitutto la versione elementale, secondo me le migliori sono quelle elettriche e o quelle corrosive, ma anche tutte le altre sono comunque molto buone. Poi il tipo. Io mi lancio, mi ricollego e ci riprovo. Ecco delle versioni flying, fuoco. Però sì, contro boss come Teramorphus o altri che sono sensibili al fuoco vanno benone, però robo, nemici corrazzati. Quindi, no, cambio. Anzi, la migliore strategia sarebbe tenersele e poi farmarne delle altre. Vabbè, poi alla fine mi sono stufato e mi sono preso più o meno il primo modello che mi ha proposto, quando non ne potevo più. E tutto sommato è anche buona cosa vedere cosa può fare una versione qualsiasi. Siamo ormai a buon punto del DLC. Possiamo unire i quattro pezzi della bussola e svelare un'altra parte del mistero che avvolge il tesoro dalle sabie. Tra parentesi, sto anche saltando quella a qualche farming di oggetto blu unico, li recupero poi più avanti, eh, naturalmente. Scarlet ci spedisce al faro, al Magnis Lighthouse. E' dall'inizio del gioco che lo vediamo torreggiare sopra di noi e finalmente siamo pronti alla scalata. Ed è arrivato il momento di vedere il falco delle sabbie all'opera. Voilà! Viste i proiettili che si dispongono a dala di falco? Bellissimo. Eh, 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 fin troppo facile. La Sandwalk, come la Uncamp Herald, è un di quelle armi in cui non c'è il moltiplicatore dei proiettili sulla scheda, ma in realtà vedete che ne produce un fracco, dei cosiddetti pellet, come dicono gli anglosassoni. E ciascuno di questi pellet vale per l'amplificazione del B, risultato una valanga di danno. Ma anche senza B il danno rimane comunque notevolissimo. Figuratevi con un mod e o reliquia e o skill che potenziano il danno degli SMG. Oppure il danno elettrico o corrosivo, se avete la versione elementale. Cioè, non so se avete badato poi. Non ho neppure usato la scoria. Figuratevi sotto scoria, triplicando il danno. Non farete fatica quindi a credere che ho guadagnato l'ingresso al Money Lighthouse in 448. Questo è un livello, secondo me, molto bello. E ce lo vedremo la prossima volta. A risentirci. Grazie a tutti. Grazie.